Ho trovato un lavoro, business, gli accendini, ci sta uno che ti dà una scheda di accendini e ti sceglie. Ma che stai a fare ragionamento? Perchè io sono 48 accendini. Mettevo proprio a fare un accendino. Certo, ci vuole anche 38 e la ragazza. La ragazza dei marrocchini e gli accendini. Eh vabbè, al massimo ci stanno per roma. Il problema è quello. Non so. La roma 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 roma. Che buona con marrocchini. Non so fare da le camere. Non so, non so. Una bottiglietta d'acqua liscia. Oh Smarties! Oh senza il frigorifero! Stando guarda, non si vede. Non si vede, non si vede. Ma perché? Che devi fare? Non so Smarties! Ti vedo! Non so, partami una fetta di cotechino! Sdraiati per terra! 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 Oh grazie! Però non la faccia. La faccia con me con i gommerei a me. Oh ma aspetta. Ma sta roba è il pagamento e... Non zio, prima la porti nella gomma pure a me. Non so. Però la volete pagare adesso? Tra il tuo video. Magari. Non zio, buttami nella gomma anche a me. Grazie. No, no, no. Sdrai, ma non... Non dedicarmi solo a me video. Dedicami anche agli altri. No, ci stai ancora. Non ti preoccupa. Aspetta. Ci sono certi video stupidi che metti. Tira. 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 Che dici Antone? Com'è il canale tu? Di Giuseppe e Stefano. La gomma! 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 Scusate! Ciao a tutti quanti del canale di Giuseppe e Stefano. Poi ci vediamo prossimamente su questo canale. No, no. Tu chi sei? Io sono Antonio. Antonio? E non si dice il cognome. No, no. Te vede. Non si dice. Non si dice che mi chiamo Corronga. Te cuore ero in gatto. Mi chiami Corronga? Mi chiami Corronga? Aspetta un attimo. Non mi assassino la cosa. Antonio Corronga. Avezzano. Stato di Giuseppe. Via Lupo numero 9. Via Carimbaldi numero 235. No, è sbagliato. Ne avrega più sopra. Quella la, ogni volta che ti registra, c'è stata la cassetta. Ci stanno ancora 238 giga da registro. Oh, è buono. Prendiamoli di film. E' buono eh? 288 giga. Oh, dai. No, no. Non ti senti osservato? No. Prendiamo. 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 Ok. Ma poi non ci sta così. Non ci sta bene. Quella è la cosa che sta... Oh, comunque è fisico per tenere di salire un'asta. Adesso perché non prende. Quella è la cosa che sta schiacciando. No, non vi è. No, non vi è. No, è vero. Dipenditi a film porno. Lo sai quello? Oh. Ci sono delle foto... O sul mio o sul suo. Eh sì, ciao. E chi? Quella del... Cioè, che dico? Il vostro. Beh. Che praticamente... Vabbè, parla, parla. Ci sono delle foto? Chissà, una casa. L'inverno scorso. Non riesco a capire che la sai. Ma a Stefano di Giuseppe ci mettono... Il bastone in culo. Eh. Eh. A Stefano di Giuseppe ci mettono il bastone in culo. Abra la bocca. Aspetta, non riesco a capire qui. Poi. Chià, non fa punti di te stesso. 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 Ma comunque quando mettevo la cosa non l'ha messo. Eh, lo so, lo so. Eh, lo metto. Non ti preoccupare. 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 Dai, sai, la cosa posso vedere sto video? No, andò, dico lo che prendi. Su, forza. Sfogati. Dai, poi le parti brutte le taglia. E taglio. Le parti del cazzo le taglio. Non c'è cosa dico ormai. La cittina l'ho modificata. Ci messa la marmitta. Eh, non c'era la gomma. Porco Dio, me la lascia una po'. No, non c'era la gomma. No, non c'era la gomma. No, non c'era la gomma. Ma dove via? Al palais. Dai, è stata con campagna. Noi, non c'era il bollino che non lo vuoi. Che cosa è assale ma non lo vuole portare, quello che non lo vuole. Senza bollino. Che pezza, mi sto proprio preciso per te eh. No, no, no. Ma dai, ragazzi. Ma dai, ragazzi. Ma stai? Sto, che ti dicendo di la fronca. Sei, italiani senza bollino. No, dai, dai, dai. Amori, vieni fisico alle sigarette. Io sei a colpa di sigarette. Uuuuh, Antonio prende fuoco. Antonio? Eh, quando... Quanta gente vista è il canale tuo? Il cane mio. Canale? Non lo so, non lo vedo più. Poi, sto a censura... Fedi, di censura. Ah, sai che mi dici? Niente, dai? Eh, niente. Allora... Andrò. Senti, e guarda che c'ho 2 ore e 48 minuti di video. circa 15 giga, però va bene Anto, vai no no, essi, come faccio lo metto così, lo blocco con l'accendino e sto fatto ok no, no, è cascato un attimo però mi ha un po' di sedicocola Anto non avrei detto qualcosa allora poi se a sito li mettiamo insieme sullo stesso mare del duo beh, me lo invi, certo, va benissimo via mail vaffanculo va ti vedo ancora, cioè aspetta, non capisco ti vedo, sì, sì, la voglia Anto, di quello che sempre pensi cioè dichiariamo guerra allo Stato facciamo macelli forza, dai grazie fisico che sei il recchione forza, dai, dillo dillo tu? no, devi dillo tu quello che vuoi fare cioè tu che vuoi rifare l'altra volta e mi metto Povezzano vuoi eliminare una razza vuoi togliere la gente ma oltre a quello che tu metti l'altra volta ti vuoi ingulare i cani ma, cioè, ma che problema c'è le lingue arti i cani scusami e lo so, in modo tu cioè ho vittato questa qua è ancora buona questa acqua ma io ho preciso messo così l'iPhone lo sai? tra un po' sfrumato un po' ditto, basta andare a dire tra il prossimo che non lo è vabbè, non riesco a trovare allora, praticamente, intanto ti piace scopare i gatti? no, ti piace fare bocchini dopo l'Antonio mi piace fare bocchini cioè, allora, mo non è per di qualcosa questo quello me il frate non me lo fa cucinare non capisco che significa lo so, il mio video lo vede ecco io allora, Brian, intanto ferma aspetta ciao ciao a tutti ciao a tutti, ci vediamo